Facciamo un video? Un video per la nana? Per dire a tutti ieri buona notte? Eh? Come ti dici? Buona notte? Buona notte? È vero? Buona notte buona notte a tutti? È vero? No, sì. Ecco la notte. Ciao ciao! Come voglio dire? Ciao ciao i bacini! I bacini? Bacini a tutti? Kisses! Kisses! È vero? Buona notte, people! Buona notte! È vero? Buona notte! Ciao ciao! Ciao ciao! Você è? Lo dici? Certo! Bravi, sì! Bravi! Ciao! Buona notte!